e mi ha detto non dagli sul sasso io non lo faccio il sasso stai sereno io passo sopra non c'è Stefano dai Stefano ah lo devo rifatto lo vedi allo Stefano non sono convinto do E il sasso del press mica per niente, eh. Comunque gli ho dato ancora sul sasso. Sai perché? Io di solito quando lo facevo, gli davo già scendendo, capito? Non sotto qui. Già scendendo, acceleravo un po'. Vai, Lele. Tutto tuo. Stai, 500 centimetri qui dirà. E' un po' girare in torno 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 E' un po' girare in torno